Cartier Tank MC. Eleganza senza tempo e innovazione. Gli orologi da polso vanno oltre la semplice funzione di misurare il tempo, sono veri e propri oggetti di desiderio, simboli di stile e testimonianze di artigianato eccezionale. In questo contesto, Cartier emerge come uno dei marchi di orologi di lusso più rinomati al mondo, con il suo design iconico e l'eleganza senza tempo. Approfondiremo ora il Cartier Tank MC per uomo, esaminando le sue caratteristiche uniche, il prestigio del marchio e perché rappresenta una scelta di stile ineguagliabile. Il Cartier Tank MC è una raffinata reinterpretazione della celebre collezione Cartier Tank, la cui storia risale al 1917, quando fu creato da Louis Cartier. Questo modello in particolare, il Tank MC, unisce l'eleganza classica del marchio Cartier con elementi innovativi, posizionandosi come una variante moderna e sofisticata. Consideriamo le qualità chiave del Cartier Tank MC. 1. Design iconico. La forma rettangolare con angoli smussati cattura l'attenzione per la sua eleganza geometrica. 2. Materiali di alta qualità. Oro, acciaio inossidabile e pelle di alta qualità garantiscono durata e bellezza. 3. Movimento svizzero di precisione. Ogni orologio Cartier Tank MC offre una misurazione del tempo impeccabile grazie al suo movimento svizzero di alta qualità. 4. Versatilità di stile, adatto a una vasta gamma di occasioni, dal formale al casual. 5. Dettagli iconici, numeri romani stilizzati, lancette blu acciaio e una corona con cabochon di zaffiro riflettono l'attenzione ai dettagli di Cartier. Il suo design classico lo eleva a un accessorio adatto per tutte le occasioni. Possedere un Cartier Tank MC significa possedere un pezzo di storia dell'orologeria e un simbolo di stile.